Riprendiamo e adesso arriviamo nella parte più consistente e un po' più legalese, quindi dovete avere pazienza, il sound of the slide con un po' di norme, che è appunto la parte 3 con il complesso quadro normativo europeo-nazionale. Come vi ho anticipato, io mi fermo al quadro nazionale, ci sarebbe da fare tutta una lezione probabilmente sul quadro regionale e locale, ma la lascio ad altre occasioni. Ecco, questa è una notazione necessaria perché visto che li vedremo, vedremo tanti regolamenti e direttive, probabilmente lo sapete perché insomma siete persone che lavorano nella pubblica amministrazione, magari avete studi di scienze politiche alle spalle di economia, di giurisprudenza, quindi magari questa cosa è banale, però la preciso per chi invece non la conosce oppure non si ricorda. La differenza tra direttiva e regolamento non è da poco, è abbastanza sostanziale perché la direttiva è un testo in cui vengono fissati dei principi generali ed è rivolta agli stati membri, i quali poi loro devono prendersi carico di fare una norma direttamente applicabile sul territorio nazionale, quindi il cosiddetto legge di recepimento, con una parola brutta, in cui si recepisce la direttiva. E solitamente si dà tempo un paio d'anni, cioè dalla data di approvazione della direttiva alla scadenza che viene lasciata agli stati membri per approvare le norme interne, sono circa due anni. E quindi torniamo al discorso che facevamo prima, direttive che sì sono nuove, però poi ora che noi abbiamo la legge che le implementa davvero, sono già passati altri due anni. E poi prima che arrivano le sentenze dei giudici o i regolamenti attuativi passano ancora altri sei mesi, quindi effettivamente siamo sempre un po' alla rincorsa. Diverso è il regolamento, nel senso che il regolamento europeo è una legge già fatta e finita, già completa e già direttamente applicabile in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. E quindi io qua aggiungo, alla fine a volte è l'unico modo per avere davvero delle norme armonizzate, perché anche le direttive hanno come obiettivo quello di armonizzare i sistemi giuridici di 27 paesi, che sono tanti e sono eterogenei e vengono da culture giuridiche molto diverse. Adesso quando c'era la Gran Bretagna e il Regno Unito era ancora diverso, ad esempio nel mio settore il copyright, l'Inghilterra e il Regno Unito aveva una tradizione di copyright abbastanza diversa da quella dei paesi europei, e quindi trovare una direttiva che mettesse d'accordo entrambe le anime non era facile. Adesso è un problema che ci siamo tolti in un certo senso perché se ne sono andati loro, ma stanno entrando altri paesi che vengono a loro volta da altre culture diverse, quindi non è facile. Quando però si fa un regolamento è ovviamente più netta la situazione, è più chiara, perché è una norma uguale per tutti, punto. Semplicemente cambia il testo in lingua, cioè vengono tradotti i regolamenti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea, ma il principio giuridico è identico, quindi si applica la stessa legge. L'esempio è stato quello del GDPR. Il GDPR ha portato una ventata di, come dire, di positività e ha tolto un po' di ansia a noi avvocati che facciamo questo lavoro, cioè di fare consulenza sulla privacy e sulla data protection, perché? Perché fino all'arrivo del GDPR noi avevamo 27-28 leggi sulla privacy diverse. E' vero che c'era la direttiva e quindi comunque erano leggi che sostanzialmente dicevano, sul piano dei principi generali, erano allineate. Però ogni volta ti dovevi chiedere, ma si applica questa legge qua, si applica quella legge là, il cliente è italiano, però la piattaforma ha una clientela tedesca, però è tedesca, ma in realtà i server sono in Olanda e non se ne usciva vivi. Adesso con il GDPR abbiamo un unico testo che è uguale in tutta Europa. Questo è un po' il regolamento. Tutti quelli che adesso vedremo si chiamano ACT, o Regulation è il nome più corretto, perché in inglese vengono detti Regulation, che è l'equivalente letterale del nostro regolamento. Però adesso è diventato di gran moda chiamarli anche ACT, molto all'inglese. E sono quelli che vi ho già elencato prima in quella slide, però adesso pian piano li vediamo. Iniziamo.